Oggi in conferenza dei capigruppo sono state ricevute le rappresentanze sindacali della ICO, in particolare dello stabilimento di Alanno. Erano presenti la CGL e la CISL e la UIL che hanno avuto l'occasione di incontrare i capigruppo ma anche i due assessori che si occupano di questo ramo, cioè l'assessore Damario e l'assessore Quaresimale. Le prime risposte sono state positive. Cioè già domani ci sarà un incontro tra i sindacati e l'azienda e a quanto pare le 12 settimane ulteriori di cassa integrazione in base alla circolare IMPES 97 del 10 agosto 2022 dovrebbero essere accettate. È un risultato importante perché dal licenziamento collettivo di agosto il 2 di ottobre sarebbe terminato il termine, sarebbe ispirato il termine. Questo ci consentirà di guadagnare tempo, di arrivare probabilmente a fine dicembre, il che significa poter continuare a lavorare sulle richieste che sono state poste oggi sul tavolo. Cioè quello di fare in modo di superare l'ostacolo della infungibilità dei lavoratori presso gli altri stabilimenti di Pianellasi, di San Giovanni Tatino, ma anche di Foggia. L'assessore ha assicurato appunto che si occuperà di questo con una formazione sul posto di lavoro che è consentito alla Regione, ma noi ribadiamo ancora come Partito Democratico che questa è un'avvertenza che va identificata e valutata nel complesso, cioè non soltanto limitata ad all'anno, ma a tutta la ICO come unica società. Dopodiché è chiaro che ci sono delle società come quelle che si occupano appunto della Carta, che sono particolarmente energivore e che hanno delle grosse difficoltà. Voglio ricordare che anche la Borgo di Avezzano si è fermata una settimana per la Cassa Integrazione. Se tutti questi impegni non verranno portati a termine, c'è naturalmente l'impegno da parte di tutto il Consiglio regionale che era rappresentato in tutte le forze oggi in questa conferenza a fare in modo che il tavolo torni nuovamente al Mise, perché questa è un'avvertenza che comincia dal Mise quando venne chiusa la Kimberly Clark.